allora a bordo guardatela forse sarà la più piccola sarete i più piccoli di questa 151 probabilmente il mum 30 sis con giacomo loropiana francesco ivaldi li conoscete sono arrivati da dove adesso proprio adesso siete entrati in porto da siamo arrivati dalla spezia quanto ci avete messo di 5 6 ore motore o vela tutte e due giornatina non proprio perfetta con qualche groppo in preparazione alla regata va bene se avete preso gli stessi groppi che ho preso io venendo in macchina da roma qualcuno era ignorante voi siete anche vice campioni mondiali al mondiale orc di trieste no 2016 2017 so vedi voglio dire per niente diciamo che questa barca continua a regalarci delle belle emozioni ci piace fare regate di ogni tipo anche qualche lunga come ormai la 151 è per noi una tradizione abbiamo partecipato la prima volta nel 2011 abbiamo saltato forse una edizione e l'anno scorso di nuovo l'abbiamo vinta quindi siamo qua a cercare di ripetere senti quanti siete a bordo e come vi organizzerete per la regata siamo in sette cercheremo di darci dei turni 3 4 4 3 insomma abbiamo visto che le condizioni non saranno troppo difficili o impegnative dal punto di vista del vento non c'è neanche troppa bolina quindi cerchiamo di riposarci all'inizio per poi essere pronti e competitivi sotto l'elba e la gente si chiede proprio questo ma con un barchino di 30 piedi fare la regata di 150 miglia al fine si fa tranquillamente ma sì diciamo di sì è una barca che chiaramente necessita fisicità bisogna stare fuori bisogna stare in battagliola anche il rating calcola il fatto di essere in battagliola tutto il tempo di conseguenza più si riesce a dare e più e più e più ci si ripaga se si fa tutto al meglio è una barca che ti consente di vincere abbiamo vinto nel 2011 come dicevo abbiamo rivinto l'anno scorso speriamo la barca da battere ragazzi allora invece si si parliamo di sis che il nome della barca ma anche un marchio insomma una storia una start up come la vogliamo chiamare sicuramente un'avventura è un'avventura che sta prendendo sta diventando sempre più un progetto concreto e realtà pian pianino apriamo dei piccoli negozi portiamo i nostri prodotti in giro in bellissime località adesso abbiamo appena aperto san trope testiamo i nostri prodotti in mare insomma continuiamo a lavorare sotto vento ragazzi poi già come abbiamo parlato prima non parliamo di altri momenti particolari che sta vivendo la famiglia europeana siamo tutti vicini a voi buon vento stiamo tutti bene questa è molto importante sì ecco esatto ciao ragazzi a dopo alla prossima